Ciao Nanine, oggi vedremo un outfit molto chic. Se siete interessate all'acquisto di abbigliamento e accessori, potete accedere al nostro shop online nonabbigliamento.com Canotta con rouge plissé sulle spalle Pantaloni largo a palazzo, fantasia geometrica e cintura in vita Scarpa con tacco e plateau davanti con motivo che abbraccia molto bene il collo del piede Collana lunga regolabile fatta a forma di ferro di cavallo Borsa a tracolla con motivo superiore effetto cangiante Zip centrale per l'apertura Do you wanna dance? Do you wanna dance?